Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video su FIFA 16, continuiamo la nostra scalata alla divisione 1, partiamo! Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questa partita dopo... Oh sì, ho capito, Lewandowski, Ciano, porca miseria! Ma come fanno già questi giocatori? Porca miseria, regà! Così, su! Oh, bene, allargamo Leal, che ci ha pure segnato nella prima partita, oh troppo, ma che è? Che è la vera? Palla che è finita sul fondo, si ripartirà sulla rinforza. Pazzo, ho messo poco passaggio filtrante, ha tirato una bordata. Allora, questo c'ha un cacchio di modulo, che non capisco come cacchio faccia ad aprirmi, che c'ho 4-5-1, quindi... Oh! Come fanno gli esterni miei a non coprire per niente la difesa? Guarda che bordata, guarda Fernandez! Che portiere che c'ho però, ha messo a salvare da un mare di golla, ancora lui. Ancora lui. Rotto l'anima! Attenzione! Un'ottima occasione per il vantaggio. Questa è stata una grande occasione. Peccato per loro. Mamma mia. Ah, Trovoski, non è Lewandowski. Sento male dalle cuffie, mi sto a... Ah, a invecchiare. Lo sto per normale. Dai, 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 recuperiamo subito sta palla. Beh, guarda come ripartono subito in dieciotto loro, regà. Questo per me è il modulo offensivo. Non è possibile. Poi ci facciamo un 4-4-2 avanzato nella prossima partita. Vediamo un po' come andiamo. Passa la laterale. Jordan. Su e però sali, cacchio. Te fai fregare così. La miseria. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Vai, vai. Cerciamo di pressarli. Sì. Ciao core, difensore. Premia la corsa sulla fascia. Questo che è quello stanco. Il doca è stanco. Bello. Bello. Leal. 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 Centrale per Soriano. Bene. Oh, che cacchio. Troppo. Troppo indietro sta la mia squadra. Devo cambiare modulo. Moproamo modulo nella seconda metà di tempo. Mettiamo un 4-5-1 un po' più offensivo. Così intanto abbiamo questo modulo. Se non ci piace, poi ovviamente qui sotto nei commenti consigliatemi anche voi che cosa. Vedi? Wow. Stiamo troppo indietro. Non riusciamo a ripartire. Che cacchio fai? Loro partono. Ne stanno già in 18. Ma chi le data? Volevo far salire il centrocampista per... Che fa un'azione. Attento. Levandowski. La vedi però dice... Ah, sta Levandowski. Ok. Sono tipo molti polacchi, sono. Ah, no. Ok. Vai. Lancio lungo. Soriano, su. Bene. Bene. Su. Bene così. Bellissimo. Soriano, su. Valla a prendere. Aia. Aia. Però non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Cross. Bello. Prima azione della partita. Ma un cross semplice e stupido. Un cross semplice e stupido. Porca miseria. Se quello lo va a coprire lui. Tento. No. Un altro rigore. Attenzione. Ed è cazzo di rigore. L'arbitro indica il dischetto. E mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Anche secondo me... No, ci è mai venuto contro, porca rogale. Se veramente. All'altra volta ce l'hanno tirata a sinistra. Vediamo da che parte tirerà. Ma come cacchio si tuffa al portiere? Manco con quadrato dovremmo i comandi. In serio. Due volte lo intuido il rigore. Due volte. Pure ieri. Guarda. L'hai unito pure stavolta. Non si tuffa. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia. Bello. Oh. Maggia. Maggia. Non ci vuole questa altra sconfitta, regà. Se no rimaniamo veramente in categoria. Beh, ci abbiamo dopo queste altre sei partite. Però se cominciamo a perdere una dopo l'altra comincia a essere un po' problematica la cosa. Un po' problematica. Risse. Risse. Sta in aria. Oh. Oh. Orchie. Fermamia. Ecco. Grazie. Vandoschi. E il pallone entra. E le collo. Sono botto un cazzotto. Ah no. Sono bacio un cazzotto. Hanno finalizzato alla grande una splendida manovra. Approfittando anche dell'atteggiamento imbarazzante della difesa. Sì. Proprio imbarazzante. Proprio difesa addormentata la mia. 3 ore per passare una palla. Per passare una palla. Dai portiere. Portiere che blocca l'anticipo sui difensori. Ma c'è la posizione di offside. Sempre offside. Questi stanno proprio straoffensivi. Nonostante il vantaggio. Sostituzione. Ma le faccio pure io. Tanto qua. Io li tolgo 3. Perché ho tutti belli stanchi. Bella prestazione per l'amversario. Soprattutto di quell'attacco. Oh. Questo è grosso. Questo è completamente grosso. Pure fisicato. Piano. Tiro. Mamma mia. Caparato. Caparato. Sarà corner a disposizione. Caparato, regà. Go sfiorato per pochi centimetri in diretta. L'avevo vista dentro. Era veramente un gran bel gol, regà. Se lo mettevamo. Jordan. Fuori aria. Era un gran bel gol. Peccato. Peccato. Peccato veramente, regà. Peccato veramente. Bellucchi. Attenzione, Altino. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Di caccecci. Finisce così, ragazzi. Seconda sconfitta. Non ci voleva. Ragazzi, spero comunque il dito. Se a sé vostro gradimento, se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale. Mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video. Sempre qui, sempre sul mio canale.